La prima prova, vi dicevo, è un miglio per i 4 anni affidati ai gentlemen, 7 al via tutti in prima fila. Zeus US, Zephyro Moon, Zandermail, Zentera Pijet, Zadia del Circeo, Zeus di Casei e Zeta Cash, il campo dei partenti. Rinunciano al lancio, Zeus US, Zandermail e di galoppo Zentera Pijet. Per linee interne prova a resistere Zephyro Moon, ma a largo attaccano Zeus di Casei e Zadia del Circeo e Zeta Cash, soprattutto, che dall'esterno riesce a portarsi al comando nei confronti di Zephyro Moon. Il lancio di Zeta Cash dall'esterno in 13,5 precede Zephyro Moon, Zadia del Circeo, Zeus di Casei e Zandermail ad inseguire Zeus US. Zandermail che è l'unica rimasta all'esterno dopo un primo quarto in 29,7 con Zeta Cash e Stefano Baldi che stanno riducendo l'andatura dopo il parziale di avvio, ma ora arriva decisa Zandermail ad impegnarlo. Zandermail che attacca deciso Zeta Cash, parziale e violento davanti alle tribune in meno di 15 con Zandermail che sopravanta Zeta Cash tenta di sorprendere l'avversaria che però con il vantaggio della posizione interna e l'arrivo della curva riesce a rimanere al comando. Nel frattempo il mezzo miglio iniziale va via in 1 minuto e 4 decimi con Zephyro Moon che rimane nella scia di Zeta Cash, sbaglia all'esterno Zandermail, poco gestibile, poco guidabile. Poi Zandria del Circeo a precedere Zeus di Casei, il chilometro che va via in 1.15.3 con Zephyro Moon che ora va deciso all'attacco di Zeta Cash in poche battute e affianca l'avversaria. Più indietro Zandria del Circeo sulla quale si affaccia Zeus di Casei con Zephyro Moon che attacca a fondo Zeta Cash e quest'ultima che ora sta reagendo poco prima dell'ingresso indirittura. I due sono appaiati con chiaro margine su Zadria del Circeo, Zeta Cash affronta in vantaggio gli ultimi 200 metri, Zephyro Moon a largo che non si dà per vinto. Poi Zeus di Casei che attacca a Zeta del Circeo, una piccola incertezza per Zephyro Moon che confonde il passo e allora Zeta Cash torna in vantaggio. Zephyro Moon è costretto ad accontentarsi e allora via libera per Zeta Cash che conclude davanti a Zephyro Moon mentre Zeus di Casei batte Zadria del Circeo per il terzo posto. Era già reattiva Zeta Cash nei confronti di Zephyro Moon ma poi c'è stato anche un momento di appannamento da parte di Zephyro Moon ha confuso leggermente l'andatore. Allora via libera per Zeta Cash e Stefano Baldi. Due minuti secchi sul mio cronometro per la figlia di Iglesias. Avete visto il momento in cui Zeta Cash complice l'incertezza di Zephyro Moon si svincola dall'avversario e va a concludere il suo deciso percorso di testa nei confronti del rivale. Mentre in zona traguardo c'è Zeus di Casei all'esterno che probabilmente batte Zadria del Circeo. Grazie. 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 Grazie.